Ambra Angiolini in lacrime. La terribile notizia di pochi minuti fa. Purtroppo sono. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. I fan di Ambra Angiolini erano in trepidante attesa per ammirarla dal vivo. Ma un imprevisto problema di salute ha impedito alla nota attrice e conduttrice di essere presente al suo show. Angiolini ha preso personalmente la parola sui social per informare i suoi seguaci di quanto accaduto nelle ultime ore. Durante la giornata di ieri, attraverso un post su Instagram, la star ha rivelato il suo stato clinico. Nonostante fosse apparsa in televisione nella serata del 10 marzo, partecipando alla trasmissione di Alberto Matano sugli Oscar, Ambra ha dovuto affrontare un improvviso problema di salute che la costretta a un'inesorabile decisione. L'annullamento della sua presenza allo spettacolo previsto per ieri sera al Teatro del Popolo di Colle Valdelsa. Mi scuso con gli spettatori che avevano acquistato il biglietto per lo spettacolo di stasera. Ha scritto Ambra. Ma una lesione muscolare mi obbliga a rinviare la data. Che verrà recuperata al più presto. Grazie per la comprensione. Angiolini ha poi espresso gratitudine nei confronti del dottor Giovan Battista Sisca e dello staff per averle permesso di concludere lo spettacolo al Tetaro Duse. Ha inoltre ringraziato Roberto, Walter, Matteo, Michele e Jerry per il loro supporto nel fornirle ghiaccio, arnica, integratori, ecografia, calza color carne, antidolorifici e comprensione. L'attrice si è detta pronta a tornare sul palco. Annunciando la sua prossima esibizione a Adria Venerdì. Dopo essersi concessa il necessario, tagliando, per riprendersi. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.